Credo che nell'ambito di uno studio legale sia un fatto naturale, sano e utile che le persone e i partner di maggiore successo all'interno di un'organizzazione vengano chiamati a far parte di questi organi gestionali. Se questa figura, ammesso che esista, viene lasciata fuori dall'organo dove queste decisioni vengono prese, e comunque sarà sempre un elemento di disturbo, per cui è fondamentale, a maggior ragione se c'è una figura di questo genere, costringerlo a misurarsi con le fatiche, le difficoltà e le problematiche di una gestione collegiale, armonica e che tenga conto di tutti gli elementi.